Tragedia questo pomeriggio a Barletta, dove un uomo di 60 anni è morto per un incidente sul lavoro presso la T-Mac Agro, azienda alle porte della zona industriale cittadina. Luigi Riefolo, operaio barlettano, era al lavoro all'interno della struttura in qualità di addetto ai servizi di pulizia industriale per conto di un'azienda esterna, quando è stato investito da un mezzo in movimento guidato da un operaio della T-Mac. Ancora tutta da accertare la dinamica dell'incidente, attualmente al vaglio degli organi competenti. Sul posto è stato tempestivo l'intervento del 118, dei tecnici dello special dell'aslo provinciale e dei carabinieri. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. Nel pomeriggio T-Mac Agro ha diramato una nota in cui viene confermato l'episodio e chiariti i primi dettagli dell'accaduto. L'incidente è avvenuto nelle aree esterne dell'azienda, si legge nel comunicato, e non è riferibile al ciclo produttivo. Attesa adesso per accertare le dinamiche e le responsabilità della tragedia.